Gli aumenti previsti per chi andrà con questa riapertura a fare spese, allora rincari medi a famiglia in un anno, 166 euro per gli alimentari, 124 la ristorazione, 85 per l'abbigliamento, 30 per il parrucchiere, diventano di nuovo i pensionati l'anello debole della catena sociale italiana, professoressa? Guardi il tema dell'aumento dei prezzi è un tema molto serio, il governo ha adottato la strada di aiutare tutti anche le imprese in difficoltà e speriamo che gli aiuti arrivino presto, bisogna evitare ed è compito del governo monitorare attentamente che ci siano rincari ingiustificati dei prezzi, questa è una cosa molto delicata perché potremmo trovarci con una fiammata di inflazione che potrebbe in questa difficoltà aggravare le condizioni recessive dell'economia, quanto agli aiuti sulle pensioni io credo che occorra selezionare perché non sempre una pensione bassa si associa anche a redditi o patrimoni bassi, quindi aiutare quelli che meritano e però non dare soldi a pioggia.